Imame spulso, scontro frontale tra la Lega, la comunità islamica e il carroccio, se vincono il ricorso pronti a fare le barricate. Parroco del capoluogo se ne va per amore, lettera al vescovo per spiegare il suo gesto, nessuno ha sentito la mia richiesta d'aiuto. Sanità veneta, stallo in consiglio regionale, il capogruppo della Lega Finco senza riforma si gettano via 10 milioni di euro. Profughi, sicurezza, povertà e banche, tanti i temi del confronto tra i sindaci veneti, ieri si rende in diretta a Focus. Alice e Deborah, amiche coetane, unite da un tragico destino, ancora da fissare i funerali della barista di 23 anni, morta a Castello di Godego. A Ponzano, anziana di 85 anni, derubata da due nomadi, entrate in casa con una scusa, treviso pensionati raggirati dalla badante. Tragedia del Piper già effettuati in Macedonia e prelievi sui familiari, parenti accompagnati oggi sul luogo del disastro. Scuola ufficialmente al via lunedì in Veneto, nei plessi cittadini, lavori terminati con l'assessore Il Punto sui cantieri stradali. Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione di TG Treviso. Allora ricominciamo dal caso dell'imam del centro di preghiera di via Pisa, espulso dall'Italia con provvedimento del ministro Alfano. È ormai scontro frontale davvero tra la Lega Nord e la comunità islamica. La comunità musulmana e la famiglia hanno presentato ricorso contro l'espulsione del 33enne. Il Carroccio ripete invece che se dovessero vincere il ricorso e lui dovesse tornare, siamo pronti a salire sulle barricate. Sta scatenando una vera e propria bufera tra Lega e comunità islamica trevigiana. La dichiarazione di ieri del portavoce della comunità su Costituzione e Tricolore. Che questa espulsione non venga strumentalizzata dalla parte della politica come sta accadendo a Treviso dalla parte della Lega che sta facendo pressioni su Manildo. Io penso che tutti questi richiami della Lega non sono fatti perché la Lega ama questo paese. Erano le prime a mandare la bandiera e la Costituzione italiana al cesso. Parole forti le quali oggi per primo vuole ribattere l'ex sindaco di Treviso. Io non ho mai tollerato che il Tricolore fosse buttato in accesso. Quindi la Costituzione è sacra e va giurata. Quindi questi imam che fanno parte di un'altra civiltà quando si rifiutano di giurare sulla Costituzione sono fuori legge. E quindi fuori delle scatole subito tutti quanti. Gli fa ecco il capogruppo della Lega in Comune. Le parole del mediatore culturale che tra l'altro nemmeno conosco si giudicano da sole. La Lega combatte questo Stato perché combatte le ingiustizie. Lega Trevisiana che ha dichiarato guerra a Lega Prefetto in quanto rappresentante dello Stato. Oggi più che mai combattiamo questo Stato. Questo Stato che è rappresentato dal Prefetto che sta di fatto avvallando questa invasione sregolata e che sta gravando sia come costi che come sicurezza sulla testa dei nostri cittadini. È proprio per la questione della sicurezza che la Lega è pronta nel caso venisse reintegrato l'imam espulso a manifestare stabilmente nel piazzale della Moschea di Treviso sotto al palazzone diventato per molti una casbah in verticale. Adesso l'imam ha detto dal Marocco sono disposto a venire a giurare sulla Costituzione. No, sono i pentimenti, sono le lacrime di Cocotrillo. Cambiamo argomento con la storia del parroco di una parrocchia del capoluogo che se n'è andato a quanto pare per cambiare decisamente vita, per amore. Con una lettera al Vescovo ha spiegato il suo gesto e ora naturalmente il caso è destinato a far discutere. Lascio il ministero sacerdotale perché quando ho chiesto aiuto nessuno mi ha sentito. Sarebbe uno dei passaggi della lettera recapitata nelle mani del Vescovo di Treviso, Monsignor Gianfranco Agostino Gardin, al suo ritorno dal pellegrinaggio di Lourdes. Una lettera di dimissioni da parroco e da sacerdote per il titolare di una delle parrocchie della città appena fuori le mura di Treviso. Un fulmine a ciel sereno per la curia che oggi ha condiviso l'accaduto con tutti i parroci, ma non per il sacerdote che pare stesse pianificando da tempo la sua fuga. Infatti in canonica non ha lasciato nulla, segno di un trasloco discreto che durava da mesi e soprattutto di una scelta di far perdere le sue tracce chiedendo di non essere cercato. Un travaglio interiore forse di fede o forse di missione, anche se l'ipotesi più probabile pare sia legata a una storia d'amore. Le frequentazioni in parrocchia, ma anche l'importante incarico affidatogli dal Vescovo, le circostanze che avrebbero favorito l'incontro fatale che lo ha spinto a rinnegare la scelta religiosa. Di certo nella missiva, oltre al dolore per aver lasciato la veste e allo smarrimento per una fuga, così avrebbe scritto, verso una nuova e per una nuova vita, ci sarebbe anche un atto d'accusa verso la comunità religiosa trevigiana, definita divisa tra palazzo e periferie, con il primo distantissimo dalla realtà delle seconde. Una lettera letta a tutta la curia per una riflessione comune sul presente e sul futuro della diocesi, una notizia che è stata comunicata durante la funzione serale ai parrocchiani rimasti senza guida, fedeli che si erano già accorti che qualcosa non andava, troppe le assenze e troppo prolungate per essere giustificate con il ministero tra gli scaffali e i banconi affidato dal palazzo in Piazza Duomo. E ora la questione della sanità veneta. Da giorni vi stiamo raccontando dello stallo in Consiglio regionale della riforma. Il capogruppo della Lega proprio in regione dice che senza l'approvazione di quel provvedimento si gettano al vento 10 milioni di euro. O passa entro l'anno oppure il danno per le casse della regione e indirettamente per i cittadini sarà enorme. Senza il via libera della riforma della sanità veneta, questi sono i soldi che spenderemo per pagare solo i direttori generali. Considerato che ogni direttore generale costa circa 150 mila euro, potete bene immaginare quanto andrà a pesare sul bilancio della sanità nominare 21 direttori generali. Se la situazione a Palazzo Ferrofini non si sblocca, si torna indietro. Si dovrà nominare nuovamente i 21 direttori generali delle attuali aziende sanitarie, uno spreco da 3 milioni e 150 mila euro l'anno. A questi aggiungiamo altri 6 milioni per le figure di direttore sanitario, amministrativo e del direttore del sociale che i DG saranno chiamati a indicare, in tutto 63 figure dirigenziali. Bisogna mettere in conto poi anche il costo futuro di tutta la macchina amministrativa e alla faccia della spending review i denari già spesi per stampare e distribuire gli emendamenti presentati dai consiglieri regionali. Insomma, conti alla mano, è arrivato il momento di accantonare gli interessi politici e personali e pensare al bene della collettività. Spesso sento dalle vostre telecamere, dai vostri microfoni, molti colleghi che si dicono favorevoli a luce della pedemontana del Veneto orientale, salvo poi venire in consiglio regionale e attaccare fortemente questi territori. Persone che usano ovviamente due misure completamente diverse e a queste persone presto bisognerà presentargli il conto. Vi ricordo che la riforma della sanità veneta è anche il tema del nostro Tg linea aperta di questa settimana. Vi stiamo chiedendo chi sta affondando la sanità veneta. Continuate a commentare questa situazione naturalmente inviandoci i vostri messaggi ai numeri e agli indirizzi che vedete in sovraimpressione. Ora veniamo alla cronaca per la seconda volta in sei mesi. Riese Pio X si prepara a dire addio a una ragazza giovanissima vittima di un incidente stradale. È profondo il cordoglio per la morte di Deborah Quagliotto, la barista di 23 anni che ha perso la vita ieri a Castello di Godego, dopo la sua coetanea amica Alice Porcellato, morta a marzo, ad andarsene tragicamente. Ora è stata Deborah, ragazza dolcissima, la definisce il sindaco di Riese, Matteo Guidolin, che questa mattina si è recato dalla famiglia per le condoglianze. Mamma, papà e la sorella maggiore erano però assenti, enorme il dolore, tante le incombenze di queste ore. I funerali non sono ancora stati fissati. Come vi dicevo è profondo il cordoglio dell'intera comunità perché la ragazza era molto conosciuta e benvoluta da tutti. Un'anziana di 85 anni di Paderno di Ponzano è stata truffata questa mattina da due nomadi che con una scusa sono riuscite a entrare in casa. L'episodio in via Povegliano, poco dopo mezzogiorno, le due donne sono scappate con quattro catenine e un braccialetto. La padrona di casa le ha messe in fuga prima che arraffassero anche del contante. Proprio oggi i carabinieri hanno convocato la stampa per mettere in guardia l'opinione pubblica, in particolare gli anziani, dalle truffe. Sentiamo prima la testimonianza della figlia della pensionata e poi i carabinieri. Hanno suonato il campanello, pensavano che fosse la vicina di casa, invece fatalità, si è presentata una persona che non era quella. Gli ha chiesto se sapeva di trovare un appartamento in affitto. Lei si è resa conto subito che queste erano delle truffatrici. Poi gli ha detto aspetta che chiudo la pentola, che chiudo il gas, scusate, che chiudo il gas, invece questa gli ha corso dietro e se l'ha trovata in cucina. Dalla cucina, dopo si vede che l'altra gli ha fatto qualche segno, l'altra persona è andata in camera mia e in camera mia hanno portato via qualcosa e poi sono andata in camera di mia mamma, hanno portato via, cioè non hanno fatto a tempo di portare via. Io dico solo questo. Anziani, state attenti, attenti, ma attenti quando vi suona il campanello. Non aprite, ma dite che non vi interessa niente, che siete a posto di tutto, che non manca niente. Questo vi faccio un appello veramente forte del cuore, perché quello che è successo può succedere a tutti quanti per una cosa, diciamo, banale, ma non è. In provincia abbiamo rilevato che ci sono almeno due, tre tentativi o più delle volte anche riuscite truffe ai danni degli anziani. Quindi per questo l'attenzione nostra è molto alta e è importante però in questo tipo di lavoro la prevenzione, perché il cittadino ci deve aiutare a proteggerlo. Dalle due alle tre truffe ad anziani, a settimana solo nella marca. Quello di Ponzano è soltanto l'ultimo episodio in termini di tempo. Per questo motivo dal comando interregionale dell'arma è arrivata ai comandi provinciali l'indicazione di puntare nuovamente l'attenzione sul fenomeno e lanciare attraverso i medi all'ennesimo appello agli anziani. Un consiglio principale è quello di diffidare assolutamente da chi non si conosce e nel dubbio fare una telefonata al 112, al 113 per verificare se effettivamente hanno inviato personale a svolgere delle attività. Sconforto e vergogna spesso spingono le vittime a non denunciare. È un fenomeno che deve essere denunciato, perché noi veniamo a conoscenza di questi fenomeni soltanto attraverso le denunce. Quindi se noi conosciamo il fenomeno abbiamo tutti gli strumenti per poi porvi rimedio. E a proposito di raggiri ai pensionati, andiamo a sentire un'altra storia risolta poi positivamente dalla squadra mobile di due anziani che sono stati raggirati da una badante. È l'ennesimo caso di truffo con furto che vede vittime degli anziani. Questa volta ancora più odioso, perché chi l'ha messo in atto ha fatto leva sul bisogno di assistenza di una coppia che non ce la faceva più ad essere autosufficiente. A raccontarla, chi ha raccolto la denuncia ha fatto partire immediatamente le indagini. Erano stati contattati da una signora di origini straniere che si era offerta loro come badante. Inizialmente la donna si è comportata in maniera ineccepibile, salvo poi successivamente rubare tutti i gioielli presenti all'interno della casa e lasciare i suoi assistiti di fronte all'amara sorpresa e dileguandosi poi nel mondo. Oro, gioielli, catenine e anelli non solo preziosi per valore ma per storia e memoria sono spariti dalla loro casa alle porte di Treviso. E tutto in soli tre giorni nei quali la donna ha anche chiesto un aiuto economico. La donna prima di sparire aveva chiesto ai suoi abitatori di lavoro 350 euro da poter inviare presso il paese di origine. Una truffa con furto replicata diverse volte dalla rumena trovata dalla mobile trevegiana nell'appartamento di un connazionale a Padova. Abbiamo scoperto a desito delle indagini che sono state attivate in base alla richiesta di questi anziani signori che la donna in realtà era solita attraverso degli annunci economici proporsi in qualità di badante per poi rubare i beni all'interno delle abitazioni dei suoi assistiti e dileguarsi quindi nel nulla. La donna è stata denunciata mentre i soldi la rifurtiva purtroppo nessuna traccia. Ora gli investigatori stanno cercando di capire quante volte ha agito la badante l'altra perché molti altri anziani per vergogna certamente non hanno denunciato la medesima disavventura accaduta alla coppia di Treviso. E ora rivediamo alcuni spezzoni di Focus ieri sera. Protagonisti lo sapete i sindaci si sono affrontati molti temi dai profughi alla sicurezza alle questioni banche. Grande successo di piazza e di audience per il Focus dei sindaci di ieri sera. Sul palco di Piazza Ferretto nell'ambito della manifestazione dedicata a Gianni Pelicani il volto storico della politica veneta e veneziana i quattro sindaci delle principali città della nostra regione si sono confrontati sui temi di attualità per i nostri territori. Inevitabile l'accenno ai profughi con il primo cittadino di Venezia. Tu salvi le persone che arrivano col mare grosso eccetera gli fai fare poca strada per cui non rischiano di annegare. Li tiri su sulla nave, li rifocilli, li metti salvagenti, ci parli. Magari all'interno fai un ragionamento immediato se c'è qualcuno che vedi e capisci che sta scappando dalla guerra quelli te li tieni magari, ma sono pochissimi. Gli altri, quando il tempo e il mare è calmo la costa la vedi perché 12 miglia sono vicine ci metti delle barche nuove che ci costeranno sempre infinitamente meno che non stesse accoglienza ignorante che stiamo facendo adesso e li mettiamo con la prua verso la Libia o da dove sono arrivati e tornano di là. A Verona con i profughi c'è anche il tema dell'accattonaggio contrastato così dal sindaco Tosi. A dare la multa a chi dà l'emosina perché siccome ne abbiamo provate tutte ne abbiamo provate tutte perché molti chi la raccoglie non gli puoi fare nulla. Un procedimento penale per sconfingere il racket va a finire in nulla nonostante l'accertamento della responsabilità. Per Giovanni Manildo, tra i quattro il sindaco più giovane inevitabile il tema sicurezza nella città e il confronto con lo sceriffo Gentilini. Io credo poco all'aggettivo buonisti credo poco al fatto che sventolare una stella o autoproclamarsi sceriffo possa risolvere i problemi. Il tema della sicurezza è fatto su un equilibrio di poteri per cui penso che la cosa più importante che possa fare un sindaco sia quello di stringere un patto per la sicurezza insieme al questore, al prefetto cosa che noi in comune di Treviso abbiamo fatto. Sindaco di Treviso che plaude all'inchiesta su Veneto Banca aperta però dalla procura romana. Io sono molto contento che ci sia una inchiesta partita da Roma e si cerchi di affermare il principio di responsabilità. Oltre 1.500 di sms arrivati durante le due ore di diretta terminata con l'auspicio per un Veneto dei sindaci. Si trovino attorno ad un tavolo perché secondo me in quel tavolo noi potremmo avanzare delle proposte chiare non strumentali, non polemiche ma molto razionali per il bene dei nostri cittadini sia al governo sia alla regione. Solo il 7% dei comuni italiani si è attivato nella lotta all'evasione fiscale su poco più di 8.000 comuni presenti in Italia infatti solo 550 hanno dato origine a un'azione collaborativa con l'amministrazione finanziaria lo sottolinea la CGA di Mestre basandosi sui dati fino al 2014 una caratteristica principalmente del sud Italia con alcune eccezioni al nord tra cui Treviso, Belluno e Rovigo che dunque spiccano per inadempienza. Inmediata la replica di Cassugana con l'assessore al bilancio Alessandra Gazzola il comune di Treviso dice ha sottoscritto un protocollo con l'Agenzia delle Entrate nel 2014 ma subito sono state riscontrate difficoltà a far decollare questa attività così in primavera abbiamo indetto una serie di incontri con l'Agenzia delle Entrate per concordare una procedura standardizzata e già entro quest'anno conclude si potranno vedere i risultati allora staremo proprio a vedere. Ora la tragedia del Piper dell'Aeroclub di Treviso precipitato in Macedonia causando sei vittime tra cui lo sapete il presidente il vicepresidente ragioniere del club i familiari proprio delle vittime sono giunti ieri a scopi e si tratta di 11 persone su di loro oggi all'istituto di medicina legale dove sono già state portate le salme sono stati effettuati i prelievi per estrapolare il DNA lo si utilizzerà per dare un'identità ai resti dei corpi degli occupanti del velivolo i familiari sono inoltre stati accompagnati sul luogo del disastro un lungo viaggio in auto quindi con la jeep e poi un'ora a piedi per raggiungere il punto dello schianto e raccogliersi qualche minuto in silenzio ancora nessuna informazione sulla data del loro rientro in Italia continuiamo con la cronaca a cominciare dagli aggiornamenti sulla esplosione ieri letteralmente di un camper in una stazione di carburante di Vittorio Veneto è stata trasportata in gravi condizioni al centro grandi ustionati dell'ospedale di Padova la 71enne ferita ieri pomeriggio a San Floriano di Vittorio Veneto nell'incendio del camper con cui viaggiava col marito un 75enne i due pensionati nati in Germania ma residenti a Campo San Piero stavano facendo rifornimento di GPL quando il camper ha perso fuoco il marito è riuscito a estrarre dall'abitacolo la moglie che ha riportato profonde ustioni alle cure del pronto soccorso di Conegliano hanno dovuto ricorrere anche il 75enne il titolare della pompa di benzina e un dipendente sul posto vista la pericolosità della situazione erano intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco ora a Mogliano invece per un consistente furto di computer colpo da decine di migliaia di euro la notte scorsa la fornitecnica di via Volta a Mogliano in azione è quasi certamente una banda visto che gli uffici sono stati letteralmente svuotati dalle apparecchiature elettroniche una quarantina i pc i computer portatili e i tablet sottratti i ladri si sono poi defilati la scoperta del furto ieri mattina all'alba del caso si stanno occupando i carabinieri e ora le immagini del sinistro che si è verificato ieri pomeriggio a Fonte con una persona ferita incidente nel pomeriggio di ieri intorno alle 18 in via Solana a Fonte una giovane automobilista di origini marocchine residente a Crespano è rimasta incastrata nella sua auto finita contro il cassone dell'autocarro che la precedeva sono stati gli operatori del SUEM di Crespano a liberarla e a prestarle le prime cure quindi la ragazza è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Castelfranco nello scontro si sono registrati altri due feriti abbiamo sentito prima i sindaci parlare di integrazione sicurezza e di stranieri ecco vediamo l'iniziativa in programma domani a Olmi partita di calcio speciale domani pomeriggio alle 16 nel campetto della parrocchia di Olmi si gioca il torneo del cuore 2016 si affronteranno quattro squadre formate da sacerdoti giovani della parrocchia profughi di via Verona amministratori comunali vigili e carabinieri prevista anche la presenza del direttore della Caritas Don Davide Schiavon un'iniziativa a favore dell'integrazione che non dimentica la solidarietà nei confronti dei terremotati quanto verrà raccolto sarà devoluto attraverso la stessa Caritas alle popolazioni del centro Italia ultimo fine settimana di vacanza per gli studenti veneti perché da lunedì la scuola li prenderà ufficialmente anche nella nostra regione anche se diversi plessi hanno già cominciato abbiamo fatto il punto con l'assessore ai lavori pubblici sui lavori proprio nelle scuole e anche lungo le strade lunedì scuole ufficialmente al via secondo il calendario della regione nel capoluogo conclusi alcuni interventi di miglioramento dei plessi scolastici abbiamo adeguato delle entrate per l'accessibilità per cui la scuola Tognolo poi altre due scuole che le hanno fatte praticamente nuove sono veramente scuole che hanno ripreso la loro dignità diciamo quasi umana da lunedì però si intensificherà anche il traffico in città e i lavori in corso sulle strade rischiano di complicare le cose secondo Cassugana però problemi non dovrebbero essercene per quanto riguarda la zona San Pellaio centro per i siti dell'ITIS siamo a buon punto settimana prossima praticamente finiamo tutti i lavori comunque il traffico sia scolastico che altro attraverso gli autobus può tranquillamente transitare e lì siamo a posto percorribile anche via le Montegrappa malgrado proteste e petizioni la nuova pista ciclabile sta vedendo la luce la settimana prossima sarà aperta ai ragazzi che possono andare le rifiniture le faremo subito dopo e a fine mese faremo l'inaugurazione in agenda per il 2017 un altro impegnativo cantiere a Santa Bonavecchia prossimo anno faremo questo lungo tragitto di circa un chilometro e mezzo adesso non mi ricordo bene quanto però arriviamo fino alla via Mandruzzato e quella è una messa in sicurezza di una strada che veramente ha bisogno veniamo alle iniziative dedicate ai Veneti schiacciati dalla crisi questa settimana all'assegno è andato proprio una famiglia trevigiana di Susegana Anna e suo figlio entrambi senza lavoro sono ritornata eccomi qua grande famiglia di Rette Veneta oggi siamo a Susegana e stiamo per incontrare Anna una donna che avende a mente bisogno di aiuto Anna non viene aiutata perché risulta proprietaria o eredichiera diciamo di una casa che questa casa non si vende e lei non ha neanche i soldi per fare la spesa non ce la fa a vivere però purtroppo questa casa pesa sul suo reddito e perciò anche in comune non viene aiutata allora cosa facciamo non può mangiare le pietre l'erba cioè le maniglie questa donna deve vivere cioè già a febbraio ho fatto domanda per avere un po' di pensione sociale mi arriva la lettera che la pensione è stata rifiutata perché c'è un'incongruenza io sono proprietaria di immobili vado direttamente all'Inps uno degli addetti mi dice meglio che parli col direttore torni giovedì sono nata giovedì trovo sto direttore incavolato a morte come se io fossi una delinquente lui ha detto che ha fatto mia madre ha fatto una dichiarazione falsa mentre non è vero e lui avendo detto questa cosa io si è comportato in modo molto arrogante quasi urlava batteva i pugni gridava proprio in modo molto arrogante allora Anna guarda io ti do questo assegno della grande famiglia di Rette Veneta spero non sarà la panacea ma almeno riuscirà beh tutto è utile guarda ti stai commuovendo è dura Anna? tanto tanto dura avresti mai pensato di arrivare a Rette Veneta? no 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 e questo lo sapete riusciamo a farlo grazie alla vostra solidarietà vediamo insieme la programmazione di questa sera alle 21.05 su Rette Veneta il Diario dei Soldati domani mattina dalle 9 il Santo Rosario a seguire la Parola del Signore alle 10 la Santa Messa in diretta dal Santuario di Motta di Livenza alle 14.10 l'appuntamento è con Idea Formazione Nord-Est alle 15 la replica da Il Diario dei Soldati alle 17.45 il nostro Angelo Squizzato con Agricultura Veneta è davvero tutto grazie per essere stati con noi io vi auguro a nome di tutta la redazione una buona serata e una buona domenica arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.